Ciao a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti sul mio canale. Io mi trovo su YouTube da sempre, ho bazzicato canali su canali fino a quando poi ho deciso di prendere in mano questo canale. Finora ho pubblicato un video sulla Dragonfly Team, trovate il link in descrizione, e insieme a mio fratello pubblicavamo un video su droni cinematici. Insieme abbiamo deciso di dividerci e dividerci anche i compiti. Su questo canale ragazzi andremo a trattare cose completamente diverse, ma portando anche i droni. Su questo canale andremo a trattare moltissimi argomenti, tra cui lo storytelling, parleremo di droni, droni FPV, faremo unboxing, recensioni di moltissimi prodotti, parleremo di fotografia, di video, farò dei tutorial. Se volete un'anteprima mi potete seguire su Instagram, vi lascio il link sotto in descrizione. Detto ciò ragazzi, io non vi faccio perdere altro tempo, vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a seguirmi su Instagram e a condividere il video con tutti i vostri amici. E da Luca è veramente tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao! Ragazzi siamo al lago di Scandos, ragazzi è veramente incantevole, c'è un clima perfetto, fanno all'incirca 7 gradi. Ciao ragazzi, sono Luca della Dragonfly, siamo qui con tutto quanto il team. Ciao ragazzi, buongiorno, la location di oggi è diversa dal solito. La direzione di oggi è fare una bella camminata di circa due ore, due orette e mezza. Si può trasformare in questo. Stai cercando uno zaino fotografico al giusto presto e adatto a te. Lui è quello che fa per te, il mio primo drone. Il titolo non è buttato lì a casa, ha un senso ben preciso. L'audio nel video è essenziale, soprattutto quando si racconta una storia. Volo fatto, cioè questa è la mia prima volta che volo così in una location in cui il drone potrà andare ovunque e potrà perdersi. Ahahahah! uhuhuh! Mi picco attacca, mio riscontro! Ah! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you not...